Cane, ma l'hai visto quello della telecronaca in inglese? Che fa? Oh, Fardy, Fardy! L'ho vista anche lui! Oh, porco di c***o! Gli ho mandato anche a lui! Oh, no, no, money, money, no, Dio, c***o! Chi c***o è Lex Luthor? Questa è? Eh? Ah, Matt Frugolo! Che vuole essere da me? Che vuole essere da me? Guarda, è Lex Luthor, però! Ah, ecco! Io ho buttato su chiara, ho preso la macchina sbagliata, ho preso la macchina sbagliata! Quanti siamo? Madonna! Registrate, registrate! Troppo close! No, ma se registri il stato parso tra i quanti e io non si capirà niente! Ah no, aspetta! Che è che parte da tu? Che sta registrando? Io! No, queste sono gare, no? Face to face! Vabbè, ragazzi, io chiara l'ho vista che andava fuori dal cerchio e poi è rientrata dentro! All'orbita! Magica la sua connessione! Magica! Magica! Eh, senti! Miau! Miau! Ma che c***o! Ma capro, tu mi sorpassi e mi tagli la strada! Volteri con la p***a la troia sul mare! Ma il cane accelera cane! Ma dopo! Ma mi do io! Ma non è male! Cos'è il senso? No, risu, ci adobbiamo sta 100! Oh m***a! No, cane cane cane, no! Scusa! No! Ho provato a prendere per non svegliarti la strada! Ho persa, l'ho persa! Dio c***o! Il traguardo! No, risu! No! C***o! Sei! No, risu! Sei! Dio m***o! Che c***o abbiamo tenuto entrambi! Ma chi è che sta volando con la macchina nera, scusate? No, dalla macchina? Nera! 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 Lagga tutto! C***o! 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 Mi sta laggando! Oh, una volta che voglio partire ultimo, parto prima e ora mi colano tutto! C***o siamo accanto! C***o! C***o! Non hai lagga tutto! Tranquillo! Ma chi è? E' un delirio! E' un delirio! Finisce male! No, finisce male! Si è ok che ti era tutto! Partito! Mh, porco! C***o! C***o si è arrivato! Ma quello è grande! Ma devi finire! La c***o! C***o! Ma tu non mi uccidi, io non uccido tanto! Tanto mi ammazzo da solo io! E' stommalo! C***o! Porco m***o! C***o! C***o! Ha furto la scenda! Ho portato quanto a noi Daturamone! Genizia! Come si è finito? Que' prima è capitata che vallero lì e faccio da! Aperto una cosa vado avanti tu sei c***o! Ohh! No, sei allora vabbè, vabbè! Ehh si! 准attateいきno! No meno impossibile Staffibile… Che cosa state facendo? Dove siete dovrebbero知道i? C***o si va la co2! C***o si può fare! Ma dove? E' impossibile. E' impossibile. Io pensavo fosse dall'alto verso il basso. Oddio, Chiara. Gabbro, 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 Gabbro. Metto il first try. First try, Gato. Ma che cazzo fai in mezzo alle palle? Ma che facciamo noi? Ho iniziato a scaldare Gabbros. Quanti giri sono? Una domandona. Due. Nooo. No, il secondo me, adesso. What? Si è fermato. Chieee! Si è fermato in mezzo alla warfight. Vai, l'ho fatto. Ma se sto morto 3,300 volte, come faccio a fermarmi in mezzo al warfight? No, arrivo stardo. E' effettivamente basta andare dritti. Lo preso, lo preso, lo preso. Io sono andato dritto, Pim. Lo preso, basta andare dritti, effettivamente, lo fai. Dai dentro, guarda! Bastardo, più lì. Guarda con che eleganza, andiamo in giro. Che bestemmia sottovoce. Che sposo, oh, che cosa mi ha fatto dietro? Donna! C'è un stupido! Che è stato? No, chi è che era quello? Quel cretino di m***a, tè, di c***o. Madonna, impegno. Ma chi è che continua a dormare? Questo c***o è buono! Avete rotti i coglioni! Avete rotti i coglioni! No, cabro, 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 cabro. Ma perché Matt continua a schiantarsi qua? Io finisco. Tanto adesso è ancora una nuova sessione, ragazzi. È arrivato uno. È arrivato tre. Che c***o vuol dire? È un traguardo, che c***o vuol dire? Un piatto da prendo, ma cosa? Ma come non arrivare? Uno è arrivato. È impazzito, è impazzito, ragazzi. È impazzito. Ma io vado di alto effetto. No. Perché non posso mettere più dislike per staccare il m***o? Non puoi. Non posso? Affanculo. Ah no? L'hai vista di dislike? Ah no? Non posso? Non posso metterne 800 di dislike. No. Con il trattorino. Con il trattorino. Con il trattorino. Vai. Io piglio il trattore, ragazzi. Il trattorino. Il trattore, cioè. Prepartiti a vedere che veicolo ho preso. Hai preso il camion? Ho preso il camion. Face to face. Quella è qui. Guarda. Un'altra face to face. Non si vede neanche. A me non me ne frega un c***o. È che ti sei preso il motorino lì? A me non me ne frega un c***o. Sì, ma è più veloce il motorino. C***o. Ma io ando con il camion. Con calma. Ma Mets. Aspetta, aspetta. Aspetta, fermo un attimo. Che c***o vuoi? Eh, vabbè. Nooo! Che l'abbiamo fatto? No, Mets! Io ho preso il volo. Mets! Nooo, rallento! No, Mets! Ok, vai. Eh, ma queste buste. Sì, sì, sì. Che lega. Vai, Edrix, vai. Ma che è sto coso? Che canz'è sto coso? Ma è un'intraigliatore dietro. Guarda, Edrix, come si diverte ora. Oh, nooo! Eh, vabbè. Eh, vabbè. Guardate giù. Ho diventato. Mannaggia. Non caricava per la gara. Ehi, 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 ehi. Ma quanto sta la gara? Chi è la gara? Chi è la gara? Nooo! Guarda, andiamo così. Mi fate brevemente spazio. Nooo! Non c'ho spazio per spostarmi, mi dispiace, non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio. Ecco, si ragazzi, no, ragazzi, facevo un retro per far passare tutte. Fermi, non passate, non passate, non passate, non passate, non passate, aspetta, chi è che, vabbè, io vi voglio aiutare. Se c'era un boost, siamo una macchina da guerra. No, way ragazzi, ma mette anche un cazzo di boost. No, 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 aspetta, 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 aspetta. No, scherzo ragazzi, è tutto in game. Razor, 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 Bolliamo. no prima non hai avuto vietà risurre sul calmo c'è di rispetto esercito ragazzi avete fatto vincere gabbro avete fatto continuate a farci cadere giù aspetta ragazzi ragazzi no signora ci ferma volta volete passare ma basta puntare su di me che mi mettete a pressione un matrimonio ogni volta che parco opposta per mettermi in pressione ovviamente di chi è la colpa di gabbro no io sono avanti è normale che sia avanti è più avanti questo è casa di reso mentre scendevo ho chiaramente visto una baita che che si è cappottato per andare in paese a prendere il latte per scontrare portati sulla puttana Hendrix ti devi mettere le mani in culo le mani in culo non sono io che è però tutti i ragazzi che mi metto in questo nuovo video io sono black manet ecco eh ciao tutti i ragazzi bentornati qui eh morvald madonna puttana che cazzo mano sai fare a guidare non è presa al brico la patente il brico al brico che è dietro con la scia è il milanese proprio io ma che milanese volano offese pesanti eh il cilinese ha fatto 100 milanese ho torteo si ho torteo tortelli al ragù il pistreo che sgaia un porsio che bello c'è l'alberello di natale ma adesso lo scopo è di cortina da un pezzo che è di cortina ahahahah ahahahah che ridere va per una fattura tre ore sono su ma non sono arrivato ma sei un pippone però ci arrivi face to face nella nostra norma PUSH